Cinque anni di Alta e Sergio, l'associazione che svolge attività per i bambini in difficoltà. Il responsabile Massimo Parenti nella sede di Pescara ci riferisce dei progetti già attuati e di quelli che si faranno in futuro. Abbiamo già in atto un progetto che ci vede impegnati con altre associazioni, fa parte del servizio civile, siamo abbinati all'associazione Emozioni di Francavilla, una stupenda realtà che ci ha fatto piacere conoscere e con la quale condivideremo un anno di attività. Saremo anche aiutati da queste nuove figure che abbiamo con noi. Parliamo di Alice, di Carolina e di Simona. Sono le tre ragazze che ci sono state affidate dal servizio civile. Naturalmente questo è uno dei progetti che stiamo già portando avanti dal 12 giugno. Altri ne abbiamo, ma soprattutto abbiamo dei momenti particolari. Avremo modo, il 25 di questo mese, di portare 15 bambini dalle parti di Caramanico. Parliamo della Valla dell'Orfento e parliamo anche del villaggio Avventura, sempre in zona. E parliamo di bambini che hanno delle necessità, necessità particolari, che soprattutto sono quelle economiche, che si riscontrano nelle famiglie. Quindi sono uscite, sono gite a nostro totale carico. Mentre diventa più interessante, ma sempre con lo stesso spirito, la gita che andremo a fare al Parco di Gardland. Una tre giorni che ci è permessa, grazie alla sensibilità di un ingegnere, che in questi giorni festeggia i suoi 51 anni e ha inteso donarci la somma necessaria per questi tre giorni. Ma più che altro a noi danno quell'impegno necessario per poter dare valore a quello che fa l'associazione, per essere sempre presenti. E perché? Perché se esistiamo dobbiamo anche far vedere che qualcosa vogliamo dare agli altri. Non possiamo esistere solo sulla carta, ma dobbiamo essere presenti. Di fatto il progetto che va avanti con il servizio civile ci verrà impegnati anche nella ricerca di genere alimentari, di vestiario, di punti di incontro con altre associazioni.